Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. Il percorso di vita di Romina Power è un intreccio di carriera, passioni e qualche dolore, che riflette una storia affascinante e piena di sfumature. La sua incursione nel mondo della recitazione è stata inizialmente un caso fortuito, un'avventura iniziata quando aveva soltanto 13 anni. Il mondo del cinema l'ha accolta a braccia aperte e le ha regalato grandi soddisfazioni. Tuttavia, tra i successi e le gioie, Romina Power nutre un rimpianto. Uno dei suoi grandi desideri era quello di recitare nell'ultimo film di Sergio Leone. Con un leggero rimpianto nel cuore, rivela, a qualche film ho rinunciato e dopo mi è dispiaciuto perché pensavo che un giorno avrei lavorato con lui in C'era una volta in America punto. Ma il destino aveva altri piani e il regista italiano si allontanò dalle scene dopo quel progetto. Il ricordo di Romina Power si inoltra anche nel territorio dei sentimenti. Durante un'intervista con Silvia Tofanin ha evocato il suo primo amore, Stesh Klosowski. Una storia d'amore appassionante, nata quando lei era solo diciassettenne. Racconta che fu un amore travolgente, tanto che la sera stessa ci siamo messi insieme. Tuttavia, questo amore intenso ebbe una fine prematura. La sua strada si incrociò con Albano e il destino scrisse una nuova pagina nella sua vita. Romina rivela che Albano bruciò tutte le lettere di Stesh per gelosia, suscitando in lei un pentimento successivo. Naturalmente, il capitolo più importante e noto della vita di Romina è stato il legame con il cantante di Cellino San Marco. Il loro connubio sembrava perfetto. Una storia che li ha portati ad essere una delle coppie più amate e celebri. Tuttavia, dopo tanti anni passati insieme, anche una relazione così forte si concluse. I rapporti tra i due dopo la fine del loro amore sono stati caratterizzati da tanti alti e bassi, da momenti di armonia e altri di allontanamento, sottolinea Romina. Oggi, Gomina Pao è nonna e ammette che la gioia di avere i suoi nipotini nella sua vita è una sensazione unica, diversa dall'essere madre. Tocca la dolcezza di vedere crescere questi bambini e sentire un legame profondo con loro. Tra le sue parole emerge anche un desiderio profondo, un momento immaginario che ha fatto commuovere persino Silvia Toffanin. Mi piacerebbe rivivere un giorno immaginario con tutti i miei figli insieme, ma soprattutto con Ilenia. Questo desiderio svela un cuore materno che, nonostante il passare del tempo, continua a bruciare con amore e nostalgia. La storia di Gomina Pao è un mosaico di emozioni, legami e riflessioni intime che ci permette di gettare uno sguardo autentico sulla vita di una donna che ha attraversato molte fasi, ognuna con il suo fascino unico. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.